Il Rimini cerca il pronto riscatto dopo la battuta d'arresto di Imola nel match interno con il Trestina. Gli Umbri sono reduci da due vittorie di fila che li hanno fatti salire a quota 16 in classifica contro i 30 punti dei Biancorossi, terzi in graduatoria a meno 3 dalla vetta. Muccioli deve fare a meno degli acciaccati Ambrosini, Mazzavillani e Buonaventura che parte dalla panchina. In attacco Cicarevic e Arlotti, torna a titolare Valeriani. La partita, la maglia a scacchi c'è ma è quella bianconera degli ospiti, Rimini in tenuta biancorossa. Dopo un paio di buoni cross da destra del Rimini sono gli ospiti a rendersi pericolosi con una ripartenza di Chiavazzo che però perde l'attimo, Petti lo chiude. Al quinto i biancorossi chiedono un rigore per un tocco di mano in area di Ascione dopo un colpo di testa di Viti, l'arbitro lascia proseguire. Il primo tiro della partita è di Righini da fuori area, al settimo, pallone a fondo campo. Al tredicesimo Mancinelli e Garbinesi rischiano di combinarla grossa, tergiversando prima di recuperare la palla nella propria area, Arlotti non riesce però ad approfittarne. Sul proseguo dell'azione, Pezzati consegna palla a Cicarevic, il cui tiro viene deviato da Mancinelli in corner. Al quattordicesimo, dal contrasto tra Brighi e Cordella, nasce un assist per Cicarevic che va a segno. L'arbitro annulla per un fuorigioco inesistente. Al ventiduesimo, grande iniziativa a sinistra di Pasquini che pennella al centro una cross col contagiri per il colpo di testa di Cicarevic. Garbinesi ribatte, riprende lo stesso Cicarevic che spara fuori. Al venticinquesimo, ci riprova Righini da lontano, la sfera ancora lontana dal bersaglio. Al ventinovesimo, Rimini vicinissimo al gol. Garbinesi smanaccia sul tiro di Cicarevic, cross di cola per Arlotti che centra il palo con una gran diagonale. La sfera rimbalza sui piedi di Valeriani che mette a fondo campo ad due passi, ma era alzata la bandirina per la posizione regolare del numero 6 Biancorosso. Al trentatresimo, sugli sviluppi di un corner, Cicarevic si coordina nell'area piccola. La sua conclusione è salvata da Chiavazzo. Al quarantaseiesimo, Guiebre avanza e calcia dal limite. Il pallone è simile a lato di un niente. Si va all'intervallo sul punteggio di 0-0. Al terzo della ripresa, numero di Guiebre che a sinistra va via due avversari e mette in mezzo di classe. La difesa allontana. Riprende Righini che conclude però oltre la traversa. Al quinto, Valeriani avanza per vie centrali e calcia. Pallone lontano dal bersaglio. Al settimo, il Rimini passa. Al termine di un'azione tutta in verticale. Valeriani per Cicarevic. Assist perfetto per Arlotti che insacca l'1-0. Primo gol in Serie D per il talento Biancorosso che corre a festeggiare sotto la curva est. Al quarto d'ora, il tiro cross di Marconi è insidioso. La sfera sorvola la traversa. Al ventunesimo, Guiebre guadagna le linee di fondo e sforna un cross teso che attraversa tutto lo specchio della porta. Al ventiseisimo, Morvidoni di forza soffia il pallone a Variola. Villanova mette al centro. Ridolfi in acrobazia manda ad un soffio oltre alla traversa. Grande occasione per il Trestina. Al ventottesimo, Guiebre recupera palla e avanza. Il suo tiro viene però contratto da un difensore Umbro. Al ventinovesimo, Arlotti rende il favore a Cicarevic, consegnandogli un bel pallone in area, ma il numero 10 di Muccioli perde l'attimo e l'opportunità sfuma. Al quarantesimo, il diagonale di Marconi lambisce il montante alla destra di Scotti. Al quarantaquattresimo, il Rimini raddoppia con Guiebre che avanza e con un sinistro potente sul primo palo supera Garbinesi. 2-0 e secondo gol stagionale per l'esterno di Muccioli. Al quarantottesimo, sul cross del neoentrato Maggioli, Petti spedisce fuori di forza, facendo venire i brividi a Scotti. Primo corner della partita per il Trestina. Dopo sei minuti di recupera arriva il triplice fischio. Vince il Rimini 2-0, Biancorossi secondi con 33 punti, a meno uno dalla capolista Fiorenzuola. Eccoci in studio, allora abbiamo visto anche ovviamente le immagini come di consueto della sfida delle Rimini. Rimini che rialza prontamente la testa, Rimini che ha meno uno dalla testa della classifica. Quindi insomma sicuramente una domenica con il segno più per i ragazzi di Simone Muccioli a decidere due under. E noi ospiti in studio abbiamo proprio uno degli under a disposizione del tecnico e dei Biancorossi che salutiamo, Davide Di Stefano. Buonasera. Buonasera. Fino a questo momento poco spazio ma ogni tanto insomma qualche scampolo di partita, ma ci sarà modo, mi stanno parlando molto bene di te, anche lo staff tecnico stesso insomma, mi dice che sei un giovane molto promettente. No, a me mi alleno sempre al massimo, poi quando ci sarà l'opportunità di giocare di più devo essere pronto e questo è quello che sto facendo. Poi dopo parleremo anche della tua avventura qui al Rimini. Davide Bagietta è il nostro baio, buonasera. Ciao a tutti, buonasera. Che dico a fare Davide? Tornato. Chi è? Chi è? Tornato, ha avuto mal di schiena. Basta, fermati lì. Basta, ci fermiamo. Ci fermiamo. Buonasera al nostro Cesare Trevisani. Buonasera a tutti. Un grillo votante che insomma ha rifilato dei bei set e invece poi vedremo anche le immagini, non ti è piaciuto l'arbitro eh? A te sì? No, a me no, però ho visto un giudizio proprio bello tosto, bello tosto, il peggior arbitro visto quest'anno. Ma mi sembra aver capito che insomma nelle proteste siamo in buona compagnia, no? Mi sembra aver capito che in tanti si siano diciamo lamentati delle sue prestazioni. Vedremo poi insomma come si è comportato anche con l'ausilio della Moviola per vedere almeno gli episodi salienti insomma come sono stati giudicati. Allora io direi Davide di partire dal commentare questa vittoria perché ci voleva, perché Rimini veniva da una brutta sconfitta a livello numerico, a livello di punteggio, anche se ci può stare perdere a Imola. E' importante rialzare prontamente la testa. Rimini che ha affrontato il match senza i suoi due bomber per Antonomasia, i due Alex, Ambrosini e Buonaventura. Però ci hanno pensato i tuoi compagni under, i tuoi compagni giovani, quelli che l'anno scorso si sono contesi il nostro premio per il miglior giovane dell'anno, Guiebre e Arlotti. Sì, era importante vincere perché comunque perdere in quel modo a Imola non era stato facile. Siamo stati bravi a razzare la testa e con umiltà siamo riusciti a portare i tre punti a casa. Era questo quello che contava. Quindi obiettivo raggiunto con tra l'altro insomma un Rimini che nel primo tempo avrebbe meritato magari di chiudere con anche un paio di gol magari di vantaggio e invece si è ritrovato ancora sullo 0-0 col punteggio. Nella ripresa quando il Trestina sembrava essersi piazzato meglio, dopo voglio convoggiare anche Baio perché ha detto adesso però mi sembrano sistemati meglio. Ma era vero, no? Era la sensazione vera che dava dal campo. Perché se faccio le mie caba l'hai visto. Ha funzionato, ha funzionato. Quindi insomma avete avuto la pazienza giusta per scardinare insomma questa retroguardia. Sì, il primo tempo l'abbiamo chiusa un 0-0. Sapevamo che comunque non era facile perché chi viene a giocare a Rimini tende di più a difendere che a attaccare. Però qui esce la mentalità della squadra che con pazienza nel secondo tempo siamo riusciti a sbloccare la partita. Poi abbiamo un po' rischiato, ci siamo un po' abbassati. Però in contropiede poi l'abbiamo chiusa e abbiamo ottenuto i tre punti. Insomma, tre punti preziosi. E dicevamo Baio, dopo un primo tempo dove si era giocato praticamente a Porta Romana, quindi un Rimini che aveva schiacciato nella propria metà campo il Trestina, al punto che insomma io mi ero chiesto come facesse a venire da due vittorie di fila perché insomma non l'avevo vista benissimo nel primo tempo. Poi sentiremo tra poco il mister, però insomma secondo me il primo tempo del Trestina è stato piuttosto di basso livello al cospetto di un Rimini che evidentemente ha saputo attaccare bene. Sono arrivati tanti cross nella giornata in cui non c'erano le punte centrali. A un certo punto sembravamo l'Italia, no? Questa è la bellezza di questo sport, di questo gioco che ha delle sfumature, prende delle pieghe a volte veramente inverosimili, incredibili. Un primo tempo in cui loro sbagliavano l'impossibile. La squadra peggiore secondo me vista, poi il prologo della spesa, vista all'Eri, noi incapaci di approfittarne perché per tanti motivi, un po' la botta di Imola, un po' che non c'erano i bomber. Nel secondo tempo quando loro si erano un po' sistemati, riuscivano anche un po' a riuscire ad affacciarsi nella nostra metà campo, abbiamo segnato e poi abbiamo fatto quello che quest'anno un po' secondo me è la pecca di questa squadra, rintanarsi. Che non si riesce però ancora a risolvere questo problema. L'1-0 e abbiamo rischiato veramente in un paio di occasioni fortemente di subire quel gol che sarebbe stato un grosso problema. E in effetti Cesare è così, pregio e difetti, diciamo il pregio e la pazienza, una squadra che ha dimostrato di saper comunque pazientare, no? Nonostante nel primo tempo avesse speso anche tanto e Rimini ci avesse provato davvero in tutti i modi, ha quindi avuto la pazienza di trovare il gol, però ha rischiato soprattutto subito dopo il gol di compromettere tutto con il solito atteggiamento di difesa del gol, che però evidentemente non è nelle corde di questa squadra, perché Rimini tutte le volte che si comporta in questo modo poi entra per qualche minuto in difficoltà. In questo caso poi è andata bene, è stata anche concessa, se vogliamo, un'occasione per quella girata, insomma, quindi è un tiro fuori, insomma, un paio d'occasioni. Fuori di qualche millimetro. Fuori di qualche millimetro, sì, però diciamo nel complesso non è che Rimini abbia rischiato, hanno avuto 3-4 palle gole, insomma, rispetto a quelle del primo tempo del Rimini sono state di meno, però sono state abbastanza evidenti perché il pallone è andato via a pochi centimetri dai legni in ogni caso, in tutti e due i casi. Sì, io credo che il primo tempo Rimini si è chiuso 0-0 per colpa dell'arbitro sostanzialmente, perché il gol annullato, il rigore secondo me è enorme su un fallo di mano in area di rigore, ma secondo me sui calci d'angolo, ogni calcio d'angolo c'era un rigore a favore del Rimini, perché le strattonate, gli abbracci che ho visto ieri raramente mi è capitato di vederli, e allora siccome anche quelle sono quelle regole che applicano ogni sei mesi circa, quelle di impuntarsi sulle mische, però teoricamente sarebbero falli. Ecco, io credo che il primo tempo di ieri si è affinato 0-0 sostanzialmente per colpa dell'arbitro. Da qui il voto pessimo. Nel secondo tempo, e dei guardarini, perché i guardarini sotto la centrale era più ubriaco dell'arbitro, per fortuna che quello dalla parte di là invece è stato molto bravo su un gol di Arlotti, perché non era facilissimo da leggere, lì è stato bravo. Lo andremo a vedere anche perché hanno protestato i giocatori del Tresina reclamando il fuorigioco. Ma quello sotto la centrale, all'altezza completamente dell'arbitro. Nel secondo tempo ho trovato il gol, io non credo che sia una mentalità o un'ansia o un tirarsi indietro. Secondo me il Rimini soffre un po' quando l'avversario ha voglia di andare alla caccia del pallone piuttosto alto. Cioè quando il pallone del Rimini giosta sulla tre quarti difensiva, i Rimini lì qualche volta, adesso a Imola era un po' più avanti, però tende a soffrire e a perdere palla. Ieri queste occasioni vengono tutte da palle perse male in quella zona del campo. Sia il tiro da fuori area, sia la girata al volo con Bariole che ha perso palla 10 metri dall'area di rigore. C'è da migliorare secondo me la gestione della palla sotto pressione, perché se tu perdi palla e ti fai trovare scoperto, poi corri il rischio di prendere gol anche da una squadra che come diceva prima Bario aveva dei limiti evidenti. inquadrato in una giornata nella quale a centrocampo le cose secondo me non è che sono filate via proprio lisce e lisce. Insomma, non sono state delle prestazioni da ricordare né di Righini, né di Pasquini, né di Valeriani, né di Variola quando è entrato. Insomma, lì nel mezzo ieri le cose non hanno funzionato benissimo, però... Nonostante ci fosse un centrocampista in più, perché era a 5 in questo caso. Esatto, sostanzialmente il risultato è fuori discussione, ripeto. Doveva già essere 2-0 alla fine del primo tempo, ma diciamo si è portrata un po' dopo. Eh sì, diciamo che in effetti questo problema magari del gestire la palla, della gestione della palla, che è un problema che Rimini si trascina dietro all'inizio della stagione, forse è dovuto anche al non voler buttare mai via il pallone, no? Anche con lanci lunghi, a cercare sempre di giocare, a volte insomma andando nel palleggio quando la pressione è alta può diventare più complicato. Diciamo che sicuramente col passare delle giornate, secondo me si evidenzia una cosa che io già all'inizio dicevo, che manca un po' un palleggiatore che sappia anche congelare un pochettino il gioco nei momenti in cui giustamente servirebbe, come diceva Cesare. E questo è, secondo me, l'uomo che servirebbe di più in questo momento a Rimini, insieme ad un altro difensore, ma lì ne parleremo magari quando parleremo di mercato. È chiaro che ci sono dei momenti in cui la palla a tutti, se l'hanno insegnato la palla la devi buttare via, perché l'azione più pericolosa loro è un pallone che Guiebre consegna dentro l'area all'attaccante avversario, lì la palla deve andare in tribuna, non certo nei piedi del giocatore che hai a tre metri. E non è una questione di ricercare il gioco, cioè in quei momenti lì devi anche chiaramente liberare l'area, non è un discorso tecnico, è un discorso di mentalità. Io apprezzo che anche Guiebre cerchi sempre la giocata, però se sei nell'area o nell'area piccola vai pure e libera. Allora, prima di andare a sentire i mister, c'è un complimento da parte di Denni. Devo fare complimenti ragazzi al mister, ieri Rimini mi è piaciuto formazione da riproporre, mi sembra più bilanciata. Avete avuto la stessa impressione che con un uomo in più a centrocampo, uno in meno in attacco, è chiaro che era meno spregiudicato il Rimini di ieri, anche se, come ci ha insegnato il primo tempo, un attaccante in meno non vuol dire necessariamente che non si costruiscano altrettante palle e golle che con un attaccante in più. Diciamo che gli uomini di movimento mediamente erano molto più mobili ieri, sono giocatori molto più freschi dal punto di vista della gamba e del movimento e questo garantisce anche più opportunità di girare il pallone con più soluzioni. A me non è sembrato così diverso da altre volte, alcune cose hanno funzionato bene, alcune altre secondo me hanno balbettato un po', ripeto, soprattutto nella gestione del gioco a centrocampo, dove secondo me servono un po' più di opportunità nel costruire il gioco, perché se lo fa solo Righini, normalmente lo fa un po' indietro, serve un po' di qualità 15 metri più avanti. Infatti io mi aspetto prima o poi che arriviamo a un modulo diverso, ma me lo tengo per ora per me, perché sono molto convinto che così i limiti si vedano un po' di più, che si possa fare qualcosa di differente, però il mister aspettiamo di averlo qui quando vorrà esserci, magari le domande gliele facciamo direttamente. Direttamente a lui, certo. Allora andiamo a sentire intanto il mister, Simone Muccioli insieme a Silvano Fioruccio che ovviamente è il tecnico del Trestina. Penso che oggi sia stata una, come atteggiamento, come maturità, come gestione della gara, a parte la parte centrale del secondo tempo, penso che sia stata una delle migliori prove che abbiamo fatto. Anche perché comunque giocavamo contro una squadra che veniva da due risultati utili consecutivi dopo il cambio di allenatore e hanno dimostrato di essere comunque una squadra solida, una squadra compatta. È chiaro che quando vengono qua e si chiudono nella loro metà campo devi essere bravo a non avere fretta, ad avere pazienza e cercare gli spazi giusti. Secondo me già nel primo tempo potevamo chiudere in vantaggio. Adesso mi dicono anche che il gol di Cicari che ci fosse buono. Però vabbè, comunque siamo rientrati nello spogliatoio, secondo me, dopo un buonissimo primo tempo dove fra l'altro abbiamo anche cambiato un po' il modo di giocare perché non avendo davanti riferimenti come poteva essere Buonaventura o Ambrosini abbiamo cercato di mandare dentro le mezze ali e non dare punti di riferimento con Arlotti. Sicuramente nel secondo tempo siamo stati più bravi a trovare il trequarti Cicarevic. Primo tempo magari la mezzala si apriva anziché alzarsi e andava a chiudere un po' lo spazio a Cicarevic. Secondo tempo siamo riusciti a trovarlo spessissimo vicino a Abdul sulla sinistra e con pazienza abbiamo trovato il vantaggio e poi ho detto a parte quei dieci minuti dove ci siamo un attimo riassestati anche perché comunque quando gli avversari si trovano sotto magari si rompono un po' gli schemi e mandano avanti tanti uomini siamo stati sempre in controllo e quindi sono molto soddisfatto. Primo tempo abbiamo fatto l'incudine una squadra che ha cercato di stare organizzata di rischiare poco chiaramente ci sono anche le qualità degli avversari e Rimini ha tanta qualità quindi si è riuscita a chiudere le indenne ripartivamo discretamente però poi negli ultimi 20-30 metri ci mancava sempre l'ultimo passaggio però primo tempo finito chiamiamolo indenne secondo tempo credo che se nel finale di gara secondo me un rigore nettissimo su Cordella su 1-0 e la girata di Dolfi al di là di questo credo che Rimini non ha rubato assolutamente niente la squadra mia è uscita molto molto di più nella ripresa quando c'era chiaramente rischiando magari qualche ripartenza perché sapevamo che ho rivisto un po' tutti i film a De Rimini e Rimini al di là della qualità di gioco parecchio si basa sulle famose ripartenze che sono micidiali con giocatori velocissimi che ti creano problemi. Mi hanno un po' attaccato quando avevo detto che per noi era un campionato di consolidamento io volevo fare anche chiarezza su sta cosa perché l'avevo detto anche all'inizio un campionato di consolidamento a Rimini non può essere come un campionato di consolidamento in un'altra piazza noi dobbiamo essere bravi a pensare una partita alla volta a rispettare sempre l'avversario con umiltà con determinazione con voglia di sacrificarsi e cercare di andare in campo sempre per il massimo anche perché sicuramente lo dobbiamo ai tifosi lo dobbiamo alla società lo dobbiamo alla piazza ecco qua insomma va bene insomma si gioca un po' con le parole come mai la divisa biancorossa scacchi è stata usata una sola volta Baio lo chiedo a te perché ieri appena hai visto la maglia scacchi se vuoi faccio la cronostoria perché io sono uno di quelli che ci tiene veramente e abbiamo visto insomma che sul mercato ci sono aziende che fanno le maglie scacchi l'abbiamo visto anche ieri il treste non ha portato benissimo però allora vabbè non era il colore giusto la versione ufficiale che c'è stato un misunderstanding fra il negozio Macron di Rimini e l'azienda principale a Bologna per cui l'ordine è finito sotto tanti altri però avevo anche letto che proprio il Macron Store di Rimini per riparare al proprio errore aveva fatto fare le maglie che è quella che è stata utilizzata una volta in effetti una volta sola che evidentemente però forse per motivi di marchio che non sono Macron quindi non vorrei che fosse un problema contrattuale a questo punto però viva Dio cioè siamo l'unica squadra che ordina le maglie e gli arrivano a metà campionato per Natale regalo di Natale allora andiamo dai nostri amici di Fisio Chinetica quindi andiamo a Sant'Arcangelo poi torniamo in studio per aprire la pagina della Moviola con la stagione fredda iniziano i dolori per problemi di artrosi traumi o incidenti sportivi a Fisio Chinetica studiamo il programma riabilitativo su misura per te con la nostra esperienza e professionalità potrai alleviare il dolore e ritrovare il benessere centro di riabilitazione Fisio Chinetica il primo consulto è gratuito ci trovi a Sant'Arcangelo via Ugo Braschi 12 Gelsosport Igea Marina Domus Medica Nova Feltria e su internet Fisio Chinetica punto it E allora pronti ad andare ad aprire la pagina della Moviola anche perché gli episodi interessanti sono stati parecchi l'arbitro è Antonino Costanza di Agrigento andiamo a vedere il primo episodio che è stato contestato dai Biancorossi già al quinto minuto c'è questo cross di testa praticamente la schiacciata di testa da parte di Viti tocco di mano di Ascione e l'arbitro lascia proseguire devo dire anche per nulla aiutato dal suo collaboratore perché insomma qui se non lo vede uno lo deve vedere l'altro perché vediamo ecco qua il giocatore che allarga il braccio tocca secondo voi il pallone perché dalle immagini televisioni secondo me è più difficile da vedere che nella realtà a me l'impressione che dà è che lo tocchi ma soprattutto dalla reazione che hanno i giocatori ne ho pure avanti con le immagini i giocatori ben crossi guardate non è uno guardate quanti giocatori reclamano il tocco con la mano secondo me è indiscutibile io poi ero vicino nella parte destra della tribuna centrale a me dall'idea di toccarla e poi scusa Roberto cosa fai allarga il braccio no no ma allora l'unico motivo per il quale l'arbitro avrebbe potuto non fischiare il rigore logico e che avesse interpretato non ci è arrivato ha provato ma non l'ha toccato oppure che non l'ha preso con la mano ma non so però secondo me il pallone viene toccato comunque con il braccio in presa diretta era molto più evidente più evidente più evidente che rivedendole alla moviola però guardate la reazione dei giocatori del Rimini cioè sono tutti ad alzare le mani quindi non è possibile che non abbia toccato questo pallone a parte che si vede un po' la deviazione anche se chiaramente con le immagini la prospettiva non aiuta però dalla reazione dei giocatori del Rimini se non l'avesse toccata non ci sarebbe stato che l'abbia toccata è discutibile solo se l'abbia toccata o col braccio o con una cosa di mezzo una spalla e il petto alto ma che l'abbia toccata non si discute però lì secondo me insomma intenzione di allargare il braccio lì c'è tutto questo è rigore per me è rigore netto Davide così sì sì per me è rigore era rigore dal campo l'ho visto un po' dalla panchina mi è sembrato rigore vedendo da qui vedo chi è netto tocco insomma c'è se c'è il tocco qui secondo me c'è poco da discutere andiamo al quattordicesimo perché siamo al gol annullato a Cicarevic tra l'altro è stato un gran bel gol ecco Cicarevic va a segnare subito le proteste da parte di giocatori della Trestina Cicarevic parte in posizione regolare ma c'è un altro elemento che tiene in gioco anche lo stesso Scott Arlotti che invece è in fuorigioco torniamo indietro Matteo Munaretto al momento in cui parte il pallone perché guardate che cosa succede ecco qua guardate Brighi calcioforte a toccare il pallone è Cordella cioè è Cordella che praticamente va di fatto a fare una sorta di retropassaggio involontario chiaramente quindi qui il fuorigioco non c'è perché il passaggio è di un giocatore del Trestina quindi questo è un errore anche piuttosto grave da parte del collaboratore del direttore di gara perché secondo me se possiamo vedere anche il momento in cui parte il pallone in ogni caso Cikarevic è in posizione regolare guardate al centro anche solo il difensore quello che si vede ce ne sono un altro paio diciamo più a centro area che magari lo tengono in gioco in maniera più netta ecco magari avrei qualche dubbio in più sulla posizione di Arlotti ma meno su quella di Cikarevic che mi sembra comunque in posizione regolare tenete conto che la prospettiva tra l'altro schiaccia quindi vedete forse l'ultimo giocatore comunque è quello che vedevamo già nello schermo però insomma qui il problema non si dovrebbe neanche porre perché toccato da un difensore il pallone fa sì che non ci sia il fuorigioco era 2-0 per il primo tempo in caso di rigore trasformato qui come come la vedete Davide anche la tua opinione ma il difensore centrale cioè Cica si vede che è regolare perché il difensore centrale forse anche dietro Cica sì anche secondo me tenuto conto che la prospettiva schiaccia in questo caso sfavore di Cikarevic però secondo me Cikarevic comunque sarebbe stato in gioco però il fatto che il problema la cosa grave è che il problema non si pone perché dopo il tocco di Brighi c'è il tocco del difensore che praticamente rimette in gioco di fatto Cikarevic sono due errori tre pensando al fatto che Brighi calcia dalla parte contraria sì il pallone quindi voglio dire c'è anche questa aggravante cioè lui c'è un minimo ragione dice aspetta lui calciava dalla parte di là quindi se la palla è andata dalla parte contraria vuol dire che non l'ha tirata lui infatti tra l'altro devo dire geniale il tocco di Brighi ma che sottolineare la genialità di Brighi un asset di sponda perché onestamente io non avrei mai pensato nell'andare praticamente a spazzare via il pallone sui piedi dell'avversario per servire Cikarevic quindi di sciapò ad Andrea Brighi per questa trovata purtroppo vanificata da questa segnalazione di fuorigioco che non ci sta quindi annullato e siamo 2-0 anche l'arbitro l'altro può anche segnalare il fuorigioco ma l'arbitro minimo ragiona dice aspetta non l'ha toccata lui eh sì perché anche l'arbitro la cosa qui che veramente pessima il ragionamento cioè la mancanza totale di cioè la sensazione è che non seguono proprio l'azione perché nella sua dinamica un arbitro comunque attento sveglio cioè la ricostruisce un po' magari si prende un attimo in più ma lì che cosa può essere successo cioè ci arrivi anche se non l'hai visto no no più che altro tenuto conto insomma che il retropassaggio rimette in gioco il giocatore e qui c'è proprio un errore concettuale quindi sono accordo con Cesare anche se il guardaline avesse visto male nel rimpallo l'arbitro credo abbia la visuale abbastanza libera anche per capire la dinamica perché qui in effetti come ha sottolineato giustamente Cesare parliamo di dinamica cioè Brighi non calcia in avanti il pallone viene deviato e allora uno dice ma chi l'ha deviato chi l'ha toccato per ultimo Brighi calcia in tutt'altra direzione possiamo andare avanti con l'immagine Matteo facciale rivedere giusto per chiudere e vi rivediamo proprio il momento del contrasto del rimpallo ecco guardate Brighi calcia da una parte per aprire verso destra e c'è il tocco netto del giocatore del Trestina che praticamente di fatto fa quest'assist involontario per Cicarevic e poi Cicarevic non è fuori gioco e Cicarevic comunque non pare per nulla fuori gioco sì sì c'era Arlotti alle spalle insomma del muro difensivo ma rimesso in gioco dal tocco comunque del difensore proteste ci sono state da parte del Trestina in occasione del gol di Scott Arlotti allora lo andiamo a vedere anche perché così ce lo rigodiamo perché è stata davvero una bella iniziativa guardate questo bel pallone lavorato tutto in verticale con Valeriani Cicarevic e questo bellissimo destro di Arlotti ecco qua il primo gol in serie di di Scott Arlotti andiamo a vedere il momento in cui parte il pallone quindi qui ci dobbiamo fermare al momento in cui ecco qua andiamo pure avanti e ci fermiamo qui un pelino prima un pelino prima guardate Scott Arlotti in posizione nettamente regolare perché c'è il difensore vedete lì al centro praticamente è all'altezza quasi di Arlotti ma un passo indietro ci aiutano le righe perché Arlotti è proprio sulla riga invece il giocatore avversario è dentro l'area quindi questa posizione è anche quello alto si sono in due anche il terzino quindi sono due giocatori che tengono chiaramente in gioco Arlotti quindi insomma va nelle proteste in questo caso però complimenti al guardalini appostato sotto i distinti perché non è caduto nell'errore insomma quindi ha visto bene non si dovrebbero fare però evidentemente e lo vediamo in quell'immagine che abbiamo visto proprio nell'ultimo istante era piazzato perfettamente in linea quindi questo sicuramente lo ha aiutato ecco guardate è perfettamente in linea con Cicarevic quindi è in grado di vedere di valutare al meglio l'azione quindi giusto convalidare il gol di Arlotti il mister Fiorucci il mister del Trestina ha parlato anche di un rigore non fischiato alla sua squadra ora io di episodi in area ne ho trovato solo uno che ha parlato di finale di partita qui invece siamo ancora lontani insomma dal finale di partita un episodio dove tra l'altro l'arbitro è vicinissimo non ha avuto nessuna esitazione però ce l'andiamo a vedere perché c'è un vedete questa lotta questo corpo a corpo l'ingresso in area da parte del giocatore del Trestina a quanto ha detto il mister si tratterebbe di Cordella e il contrasto con Valeriani cosa dite? va a cercare ci prova a cercarlo è quasi più simulazione allora ne hanno fischiato uno praticamente identico sempre a Valeriani l'anno scorso però era una dinamica di un'azione in verticale frontale verso la porta guardate l'arbitro dov'è scusate avete visto l'arbitro dov'è andiamo avanti con l'inquadratura ci fermiamo ecco allarghiamo ancora un attimo andiamo avanti andiamo avanti Matteo andiamo avanti ancora qualche istante perché c'è il rinvio forse si vede soltanto sul primo replay che è un po' più lungo ecco torniamo un attimo indietro ecco andiamo avanti vediamo l'arbitro ecco fermo qui guardate dove è l'arbitro l'arbitro è a 3-4 metri quindi l'arbitro è in posizione ottimale ha visto e valutato che non fosse né simulazione né rigore tra le due anche io tra l'altro opto più per la simulazione ma per se lo possiamo anche rivedere un'ultima volta il movimento del giocatore che praticamente sposta la gamba in maniera secondo me innaturale per il tipo di contatto che c'è stato con Valeriani lui lascia lì la gamba sperando che Valeriani entri un pochino più decisamente invece Valeriani quasi si quasi si sposta e comunque che l'arbitro fosse di vicino non è che sia un'immagine le garanzie particolari è vero anche questo è vero anche questo allora con questo possiamo diciamo archiviare il capitolo Moviola il nostro grillo votante si è già espresso vota la Terna Baio ma allora il guardaline sotto la tribuna aveva sbagliato anche prima già un paio di situazioni veramente pessimi veramente non ti è piaciuto insomma credo sia piaciuto poi l'abito ha tollerato nell'ultimo quarto del primo tempo non si è giocato ogni volta che c'era un pallone fermo per ricominciare a giocare ci voleva neanche richiamare non dico prendere dei provvedimenti ma almeno far capire che non è che si può non giocare una gestione così non lo so che non ti è piaciuta andiamo a vedere la vignetta di Baio per completare la quadra per quanto riguarda questa partita e poi passeremo invece a quanto accaduto sugli altri campi vedendo anche i gol di questa giornata prego Baio come si diceva prima avversaria non irresistibile la squadra dello Sporting Tristina molto bene e per fortuna che si studia per leggere giustamente gli accenti come vanno letti perché qualcuno sono a rischio di fare dei danni allora andiamo a vedere a questo punto i risultati della giornata il quadro completo dei risultati e poi voglio sentire anche i vostri commenti li vediamo anche se possibile in studio così ce l'abbiamo anche noi qui in studio sotto gli occhi però possiamo insomma dire che Cesare il Forlì è riuscito a battere il lentigione un lentigione che ultimamente sta facendo una fatica tremenda ormai secondo me è quasi irrimediabile il distacco lo dico perché era data come una delle squadre da primissimi posti quindi invece mi sembra che faccia veramente molta fatica la vittoria del Carpanetto Villa Biagio è un po' il risultato di giornata insieme al pari del Romagna Centro che prima prende 4 gol in casa da Sansepolcro poi va a pareggiare a casa da Frenzuola che ha sempre vinto in casa tra nella seconda di campionato quindi è una squadra che in casa lascia pochissimo e ha dovuto soffrire perché ha pareggiato nel secondo tempo era stato a lungo in svantaggio Cecconi l'ex ridere evidentemente Romagna Centro è una squadra che quando azzecca la giornata buona a parte la stima verso l'allenatore che è sicuramente tra i migliori di questo campionato indubbiamente quando trova la giornata buona è una squadra molto complicata da mettere sotto una media età giovanissima sono ragazzi bravi una bella squadra secondo me sarà dura per il sabato e sì poi parleremo anche della prevendita c'è stata già un po' di polemica ci accennava anche prima Attilio Fabri da parte dei tifosi per il costo dei biglietti tra poco quindi andremo anche a vedere prima però vorrei vedere prima di andare a vedere la classifica andiamoci a vedere i gol con il nostro Matteo in regia proprio partendo dal risultato di giornata ovvero il colpo da parte del Carpaneto che insomma è andato ad affossare il Villabiaggio nella sua tana e questo baio sicuramente è un risultato molto pesante per la classifica e anche per il messaggio del campionato insomma questo è un campionato dove come ha scritto anche Cesare oggi nel grillo votante davvero può succedere di tutto quindi un campionato molto bello dove i giochi non sono mai fatti sicuramente sì il Villabiaggio lo avevamo detto anche così qualche settimana fa era la squadra che era là in alto forse più inaspettatamente il lentigione ha perso un sacco di colpi e ha gli stessi punti del Romagna Centro che Rimini affronterà sabato la situazione è ancora molto fluida però i valori sicuramente si sono ormai delineati spaventa secondo me il fatto che Limolese possa aver intrapreso la strada giusta che potrebbe portarla ad affacciarsi prepotentemente là in alto e io è da inizio anno che dico teniamo d'occhio il Montevarchi perché è una squadra che penso sia quella che abbia vinto più partite fuori casa e se in grana anche in casa mi sembra veramente una formazione molto ostica quindi sono queste insomma le tue favorite invece le tue Davide? secondo me escludendo noi è Limolese quella che ti ha fatto anche più impressione a dire del puntetto mi è piaciuto di più rispetto alle altre Cesare in effetti quando il campionato è così diciamo anche equilibrato però fondamentalmente le prime quattro o cinque del campionato se sono nella giornata giusta e se non succede niente di particolare le possono vincere non dico non sono però le altre partite sono un po' abbordabili le puoi sbagliare e quando è così non è facile recuperare i punti sulle prime soprattutto quando sono almeno tre come quelle che anticipano la Limolese quindi la rimonta della Limolese non è così scontata perché a meno che tu questi punti li recuperi negli scontri diretti oppure approfitti di una giornata storta degli altri non è così semplice recuperare anche perché non puoi sbagliare e invece Limolese fin qui qualcosa sbagliato certo è in un buon momento a parte che non è che ha fatto sfraccele nel senso che mi sembra che abbia perso una partita nelle ultime 3-4 che ha giocato quindi non è che ha fatto 6 risultati utili di fila poi ha perso una partita male e poi a Fiorenzola e poi dopo si è rifatta con Rimini e adesso diciamo che comunque 8 su 9 nelle ultime 9 partite ha avuto solo una battuta d'arresto però le prime 3-4 di classifica hanno questi volini di marcia sì sì il Rimini compreso certo e quindi te la giochi negli scontri diretti e sei dietro di qualche punto rispetto a tre squadre è vero che è molto forte è vero che è forse anche la più forte però non è così scontato recuperare insomma sarà complicato anche per loro perché ripeto non possono non possono sbagliare niente eh sì questo è un po' diciamo la loro la spada di Damocle che hanno perché avendo sbagliato tanto in avvio di campionato adesso insomma chiaramente pur essendo comunque lì e possiamo andare a vedere anche la classifica pur essendo comunque non lontani dalla vetta insomma chiaramente le possibilità di errore diventano sempre minori insomma un Fiorenzuola che però io onestamente alla vigilia nonostante sia abbia le spalle una società importante non avrei visto così a lungo in vetta la classifica ha rischiato di essere raggiunto da Rimini insomma ieri però insomma devo dire che mi sta stupendo in positivo perché è una squadra che continua a fare risultati sì sì ha un bel passo va bene in casa è micidiale tranne ieri però insomma beh ci sono anche la San Giovanese una squadra non facile da incontrare diceva a Baio giustamente Montevarchi il Romagna Centro è fastidioso il Forlì se cresce può dare dei fastidi insomma ci sono la colonna di sinistra è una colonna di squadra che sta dimostrando di avere certi valori piuttosto equilibrati è quello che diciamo che questo campionato si sta rivelando forse più giocabile di quello che immaginavamo e dentro questa diciamo possibilità ci sta l'opportunità che non sempre capita anche di metterci le mani sopra non è che se non lo vinci il campionato hai fallito la stagione però nascondersi rispetto al fatto che è possibile vincere secondo me sarebbe sciocco no no insomma diciamo che ci sono le possibilità per l'organico che è Rimini e quello che ha dimostrato fino adesso per star lì insomma e provare a giocarsela allora ieri l'arbitro non vedeva bene perché aveva i capelli troppo lunghi che gli coprivano gli occhi questa è un'illazione Stefano Rimini buona squadra ma se viene pressata qualche problema ciao è quello che dicevamo prima in effetti nell'uscita con il pallone a volte insomma tende magari per giocarla non non sbarazzarsene a rischiare manca secondo me un po' più di mobilità nei nei giocatori avanti a venire a prendere il pallone ieri Cicarevic lo ha detto lo ha detto il mister nel dopo partito ha sentito le sue dichiarazioni è stato più mobile più frequente del solito il suo arretrare però è un arretrare con la palla scontata cioè palla aperta di Righini è chiaro che lui rientra arretra e la viene a prendere bisogna dare queste opportunità a Righini ai centrocampisti che sono in difficoltà anche quando sei pressato non solo quando il gioco è fluido e libero e hai il fronte dell'attacco aperto invece queste opportunità gli attaccanti o i laterali non gliela danno perché soprattutto ieri Viti e Gebre erano praticamente sulla linea sulla linea bianca hanno giocato per tenere giustamente larga la difesa del Trestina devono essere un po' più bravi in questa gestione che è una questione perché poi induce l'errore che ha fatto Variola che in parte ha fatto Gebre che altre volte hanno fatto perché non ci sono opportunità fai l'errore perché non hai una soluzione allora il tempo regge e te la portano via e diciamo che sono due facce della stessa medaglia perché o hai uno scarico facile o hai una qualità nel tuo palleggio superiore e ne esci comunque secondo me sono le due cose che in questo momento a Rimini mancano un po' entrambe perché i centrocampisti del Rimini a parte che il problema di domenica era anche il minutaggio nelle gambe dei centrocampisti perché per un motivo o per un altro Pasquini Valeriani hanno giocato di meno nelle ultime giornate lo stesso Montanari secondo me non ha giocato un po' perché probabilmente ha faticato un po' perché Aimo ha perso dei palloni devastanti dopo se l'è stato nella partita precedente migliore in campo però però i centrocampisti dei Rimini li abbiamo finiti e sono tutti più o meno con quel tasso tecnico al quale manca uno seda che ancora non abbiamo visto in quel ruolo su cui il mister quando aveva parlato telefonicamente dice è una mezzala pura ma lo stiamo impostando stiamo cercando di arretrato perché dormi faccio fatica a capire come un giocatore di questo genere non abbia più minutaggio che non vuol dire che è il salvatore della patria vuol dire provare siccome non è che giochiamo contro ed è anche l'unico che secondo me ha la qualità per farlo magari arretrando un pochettino quello che è il suo naturale diciamo posizionamento però ha la qualità nei propri piedi anche se sta trovando talmente poco spazio che secondo me potrebbe essere uno dei giocatori in partenza nel mercato di dicembre per andare a cercare più spazio o ci punti o no però potrebbe essere però aumentare lì in mezzo un po' di qualità a discapito cioè noi ieri abbiamo giocato con tre difensori puri marcatori non dico statici ma tendenzialmente statici perché sono giocatori che quando si avventurano nell'impostazione denunciano il limite di essere fondamentalmente dei difensori tre inchiodati lì contro quasi nessuno almeno nel primo tempo ecco allora diamolo a Davide in allenamento in allenamento come come vi schiera a voi che giocate un po' meno cioè tu dormi vi utilizza per quello che è il vostro ruolo oppure di prova no no ci utilizza per quello che è il nostro ruolo oppure per i cambi che magari può fare durante la partita che ne so esce un titolare e allora ci inserisce a posto il titolare dove noi dove lui ritiene opportuno che noi possiamo far meglio vogliamo qualità in campo mettete di Stefano ci scrivono allora Davide raccontaci un po' un po' chi sei un po' la tua giovanissima carriera il tuo ruolo tutto quanto perché sei un giocatore di talento mi dicono lo fa stampare su internet io ho visto delle cose gli ho visto fare no questo non sono io a dirlo sono le persone che mi dono giudicare chi mi allena e chi mi ha preso io sono un trequartio una mezzata è quello sto giocando trequartista il mister mi sta imbiegando lì ma lo faccio tranquillamente perché mi piace farlo e perché metto a disposizione delle mie compagne e del mister come ti stai trovando a Rimini? no benissimo benissimo il tuo obiettivo da adesso alla fine della stagione a parte trovare un po' più di spazio magari quello che ogni giocatore che magari gioca di meno vuole però spero di vincere il camminato qui sarebbe una cosa davvero importante per il mio futuro molto bene allora sai che noi premeremo alla fine dell'anno come calcio punto basket il miglior under del Rimini insomma di questa stagione chiaramente il mister ti deve far giocare un po' di più altrimenti non puoi ambire a questo premio votato da un'apposita regia premio in collaborazione con il nostro sponsor Ottica Ferri allora è il momento di vedere lo spot a due passi da Rimini a ospedaletto di Coriano puoi trovare l'Ottica Ferri che con cortesia e professionalità cercherà di soddisfare tutte le tue esigenze l'Ottica Ferri è da sempre vicina alla squadra bianco-rossa ti aspettiamo e forza Rimini e allora in chiusura ci proiettiamo verso quello che è il prossimo match e che match soprattutto che teatro perché si giocherà al Manuzzi di Cesena insomma quindi tifosi che stanno già organizzando il collettivo riminese sta organizzando Pullman i tifosi della Curva si stanno organizzando insomma tutti a Cesena per questo match non sarà con il Cesena ma sarà con il Romagna Centro ma il teatro sicuramente merita allora andiamo a vedere la prevendita perché l'ha resa nota nel pomeriggio la società bianco-rossa sarà attiva innanzitutto da mercoledì la gara ricordiamo si giocherà di sabato quindi sabato 25 novembre con l'inizio delle 14.30 a loro c'è la stadio Madino Manuzzi di Cesena vediamo i tagli anni riservati ai bianco-rossi 400 biglietti di Curva Ospiti la Curva Ferrovia al costo di 10 euro ridotto 5 euro per i ragazzi fino a 15 anni 100 di tribuna laterale al costo di 15 euro 100 di tribuna centrale al prezzo di 20 euro 100 di tribuna vipa al costo di 25 euro per i ragazzi fino a 15 anni ingresso in tribuna 10 euro i tagliandi si potranno acquistare al botteghino del Romeo Neri nelle giornate di mercoledì dalle 10 alle 12 giovedì dalle 17 alle 19 venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 poi sabato dalle 9 alle 11 io sarei più per mantenere più gli stessi orari perché così i tifosi devono davvero appuntarseli mentalmente sabato ricordiamo nella biglietteria dello stadio Manuzzi non sarà possibile acquistare i biglietti della curva ospiti quindi insomma lo diciamo che chi fosse sprovvisto il giorno della partita non potrà comunque acquistare il biglietto noi a questo punto siamo in dirittura d'arrivo quindi facciamo un appello anche noi ai tifosi ma non c'è neanche bisogno che lo si faccia insomma tutti a Cesena per vedere questa bella partita contro Romagna Centro che non finisce di stupire che insomma è una bella squadra che l'ho dimostrato anche in questa in questa in questo fine settimana grazie a Davide Di Stefano in bocca al lupo grazie a voi una buonasera grazie Baio ciao buonasera a tutti a te Cesena non ti ringrazio per il momento ti ringrazio dopo il Sant'Arcangelo finestra un po' più corta perché non ha giocato ha riposato allora ci salutiamo per quanto riguarda la terza parte di Calcio.Basket con il dopogara ai due attori del gol Scott Arlotti e Abdul Razak Guiebre e a Luca Valeriani quindi il dopogara dei giocatori del Rimini poi pubblicità poi torniamo a preparare il Sant'Arcangelo beh assolutamente era una partita molto importante è stato il gol che l'ho sbloccata comunque diciamo che era un peso che avevo dentro era un po' di giornate che non facevo gol e la prima cosa che mi è passata per la testa era di andare a sultare sotto i nostri tifogi quindi l'ho fatto no più che altro no è una cosa che è avvenuta così in partita e magari dalla mia parte c'era più spazio per poter attaccare il difensore e tendevamo di più a giocare dalla mia parte però non l'abbiamo provato durante la settimana questa cosa non siamo stati bravi a sfruttare le occasioni del primo tempo perché ne abbiamo avute soprattutto la prima mezz'ora per me abbiamo giocato anche bene dopo gli ultimi dieci minuti loro ci sono un po' abbassati del primo tempo e magari abbiamo cercato qualche lancio in più però dovevamo essere bravi magari a sbloccarla ci sono stati bravi poi nel secondo anche il misto uno spogliatore ha detto di rincominciare a giocare come era finito il primo tempo diciamo e a sbloccarla poi verso la fine è anche normale che una squadra sotto si prova a buttare in avanti ci sono stati bravi noi su una ripartenza a chiudere la partita ci siamo partiti io comunque in un ruolo che non faccio quasi mai ma ci siamo adattati comunque penso molto bene e comunque giocare con Cicari è abbastanza facile perché ogni movimento che fai ti trovi quasi sempre davanti alla porta quindi siamo contenti noi c'eravamo parlati diciamo nello spogliatoio sappiamo che non siamo quelli di Imola non dovrebbe mai capitare però nel calcio ci capitano anche queste cose capitano a tutte le squadre non vedo perché non possa capitare anche a noi appunto però era importante oggi in casa dare una risposta forte e io credo che sono stati bravi anche mentalmente nell'approccio alla partita non accusare il colpo anche magari uno pensa fino al primo tempo una partita così non trovi il gol e magari vengono fuori un po' di fantasmi per me è tanto perché comunque diciamo che io non sono mai stato un bomber puro però per un attaccante fare gol è comunque una cosa fondamentale quindi sicuramente mi darà altri stimoli per farne altri in futuro ma sì però ancora troppo presto capito noi dobbiamo cercare di continuare come stiamo facendo e ogni partita deve essere una battaglia cercare di portare a casa più punti possibili poi dopo la classifica si guarderà alla fine perché tanto il campionato è ancora a lungo